Una bella notizia nell'atmosfera del Natale che conclude una vicenda triste. Il direttore della sala stampa della Santa Sede, padre Federico Lombardi, ha commentato così la concessione della grazia da parte di Benedetto XVI al suo ex maggiordomo, Paolo Gabriele, condannato lo scorso 6 ottobre a 18 mesi di carcere per il furto aggravato di documenti riservati dall'appartamento pontificio. Il provvedimento è stato comunicato a Gabriele dal Papa stesso, che gli ha confermato il proprio perdono nel corso di una visita nella caserma della gendarmeria dove il suo ex aiutante di camera era detenuto. Dopo l'incontro, durato una quindicina di minuti, Paolo Gabriele è stato scarcerato ed è rientrato a casa. Anche se non potrà riprendere il precedente lavoro e continuare a risiedere in Vaticano, ha dichiarato padre Lombardi, la Santa Sede intende offrirgli la possibilità di riprendere serenamente la vita insieme alla sua famiglia, confidandone la sincerità del ravvedimento manifestato. Momento cruciale della vicenda, nota come caso Vatilix, era stato l'arresto di Gabriele nel maggio scorso, dopo la pubblicazione del libro di Gianluigi Nuzzi, Sua Santità, contenente lettere, appunti e documenti pontifici riservati. Il reato contestato all'ex maggiordomo è di furto aggravato, in cui viene coinvolto anche il tecnico informatico Claudio Sciarpelletti. Il processo nel Tribunale Vaticano si apriva il 29 settembre, per concludersi il 6 ottobre, con una condanna a 18 mesi di reclusione per l'ex assistente di camera. La sentenza diventava quindi definitiva il 25 ottobre, dopo la rinuncia della difesa all'appello. Gabriele rientrava così in cella dopo il periodo trascorso agli arresti domiciliari. La notizia della grazia concessa gli è stata accolta dai familiari con grande gioia e sollievo. Anche per quanto riguarda Sciarpelletti, affermato il portavoce Vaticano, si sta preparando un provvedimento di grazia, che porti a conclusione la sua vicenda penale e gli consenta di riprendere la vita in condizioni del tutto serene.